Nella giornata di oggi abbiamo deciso di sospendere lo stato di agitazione e non di revocarlo proprio perché è importante costruire il percorso e vedere come le cose andranno prossimamente. Il 18 aprile tra dieci giorni si torna in prefettura, prefettura che farà da garante su quanto messo oggi nero su bianco tra sindacati e azienda sanitaria, sindacati che hanno unito le sigle per sostenere i lavoratori. Lavorare in questa condizione diventa complicato, dall'altra parte l'Ulss ci dice in qualche modo che rispetto ai loro dati che analizzeremo e quindi sarà il tavolo del 18, le cose funzionano. Auspicchiamo che l'impegno che si è preso questa mattina al direttore generale, quindi che il trasferimento sarà entro il 30 di giugno, che ci sarà il potenziamento della squadra trasporti e di tutto il personale amministrativo di modo che il personale sanitario possa dedicarsi ai pazienti. Incontro durato circa un'ora, ferie e residue, sforamenti di orario, mancanza di farmaci ma soprattutto il disagio di gestire il trasferimento dei pazienti post intervento con il doppio polo, l'ospedale e la nuova cittadella e così le sale operatorie vanno sotto stress. La cittadella della salute ha comportato un sicuro vantaggio per la popolazione ma un impegno importante al personale perché date le dimensioni e date l'esiguo numero di personale presente non si riesce a fare tutto. I farmaci, il materiale che ancora scarseggiano nelle sale, ok? L'azienda ha detto che la cosa è risolta, a noi non risulta perché gli operatori che ci lavorano dentro hanno detto che ancora mancano cose basilari, sacche di fisiologica, materiali importanti per gli interventi chirurgici se le devono prendere da una sala all'altra, cioè se le portano via. Il 30 giugno lo spostamento definitivo alla cittadella, così come oggi è annunciato, nuovamente in prefettura tra dieci giorni per fare il punto.